Anche quest'anno sta passando e prima di passare l'anno abbiamo le festività di Natale e mio preciso desiderio rivolgere un auguri a tutti voi e quando dico tutti voi intendo tutta la Polizia Penitenziaria, il personale delle funzioni centrali, tutti i dirigenti di Polizia Penitenziaria e dirigenti penitenziari a tutti indistintamente. Io formo i miei auguri in due direzioni, auguri professionali e auguri personali. Auguri professionali nel senso che tutto quello che abbiamo fatto, forse poco, forse insufficiente, sicuramente insufficiente, ma fatto con l'entusiasmo e il bisogno di incidere in qualche modo per migliorare questo nostro mondo della realtà penitenziaria è stato un obiettivo che abbiamo perseguito giorno dopo giorno, io col vicecappo, con tutto il mio staff, i direttori generali e quant'altro, in perfetta sinergia col gabinetto, con il livello politico, con la signora ministra e su questo devo dire che sono contento di come si è lavorato. Sono meno contento di che cosa si è riuscito a fare perché è guai a rilassarsi sugli obiettivi raggiunti e sempre meglio porsi degli orizzonti sempre più ambiziosi, sempre più vicini e lontani e questo è un compito che ho assunto e che continuo ad assumere giorno dopo giorno. Dal punto di vista personale io auguro veramente a tutti voi, uno per uno e tutti insieme, uno per uno in ogni categoria, ma tutti insieme nell'unica grande categoria dell'amministrazione penitenziaria, ogni bene, ogni successo personale, ogni felicità e consentitemelo di dire, in un momento difficilissimo per tutti, abbiamo una pandemia che giorno dopo giorno sta incrementando il suo disagio e questo è occasione e ragione per dirci che dobbiamo essere attenti ma anche fiduciosi che tutti insieme riusciremo a farcela. Auguri davvero sentiti, ve lo dice il capodipartimento, ve lo dice Dino Petralia.